buongiorno ragazzi porco due stavo venendo la rdm guardate mi becco furgonetta di sbirri e pullman e ieri fermavano in pullman per andare alla ego clash no allora mi è venuta mi siamo cagati addosso cioè sono già scappato ci siamo dileguati persi mentre alla fine era solamente un era solamente un incidente se voi guardate davanti al pullman c'è una macchina ferma ed era un incidente ma speriamo speriamo che vada tutto bene ragazzi siamo dentro devo provare assolutamente il roll un altro giorno pieno di gente è arrivato moro e consonte gli amici dall'italia il scorcoglione campanese che c'è da tre giorni andiamo spacchettate il vostro pullterbs aprite lo inserite dentro ed è subito trap allora shakerate dovete fare sta faccia se no non state shakerando bene voilà proviamolo effettivamente sa di fragola e melone è molto buono ma devo shakerarlo meglio c'è adesso in fondo shakerando now you know what is kalimpo so every time you go gli hai spiegato cos'è kalimpo in italiano fuck hanno spiegato a marcel che kalimpo è il kalimpo e quindi adesso ogni volta che dico kalimpo marcel ride capito? kalimpo incredibile c'era future il rapper all' rdm e freddy l'ha filmato show the picture show the picture ha fatto una foto con ave oh guys guys freddy just shooting future the rapper look 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 bang ah you understand i was shooting him i didn't even understand yeah yeah yes yeah yes wow nooo nooo yes you got it yes you got it nooo why do you show the curves that i don't need to nooo no non sapevo cosa dire perché non ho ascoltato e gli dice sì, ho ascoltato a te qualche volta è il mio cazzo e gli ha dato il suo biglietto alla vista ma magari oggi ci vediamo in un dinner speriamo e gli dicevi, sorry bro sì, ero stupido ero stupido, ero così alto questo mattino no, io lo vedo sì, lo vedo sta per succedere un momento bellissimo in galleria stanno tirando fuori un pezzo incredibile e praticamente sono un rig che sono due elefanti che una volta esposti hanno, simulano il movimento di un palloncino con l'aria vediamolo 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 oh 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 E se lo guarda, sta muovendo come un balone. Vedete il movimento? Voglio vedere il movimento? Il mio stomaco. James Bong è stato sulla luna effettivamente. Adesso questo dito non lo laverò, ci farò una mista e avrò fumato la luna. Quindi è polvere lunare davvero. È polvere della luna davvero. Cioè abbiamo toccato la luna. Non scherzo. No, te lo giuro perché serve per fare l'impronta con la scarpa dello space boy. E quindi fa parte di tutto il prezzo. Cioè è geniale. Ragazzi mi hanno appena chiamato che è arrivato il mio box della Secret Cup. Andiamo a vedere, deve essere una bomba. Ah, il bambino è eccezionale. Sì, è bello. Le box sono stagliate. Credo che saranno arrivare un'altra. Siamo tornati dal club. Dobbiamo andare a fare una cena. E devo tagliare un attimo la carta a Pokémon da dare. Volevo farvi vedere una cosa. Candela, mira, 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 mira. Mira. Filma qui. Sono arrivate le buste della Secret Cannabis Club. Voila. Siamo f***ing f***e di buoni. Oh, e il cable? Sì, e buoni cable. Buono. Per me, per me, per me. E questo? Karma Farm. Sì. A me mandano fare le foto. Sì, Mimì puoi fare anche due foto a me che me le mandi con la telecosida. Sì. Le rocco? Sì, che le rende in pubblico. Mi hanno cambiato veloce, preghiamo il taxi e andiamo alla cena. Hola. Hola. Vieni. Ah. Sì, andiamo al cena Scorpion. Quale tipo di cena è? Fancy. Fancy. Ah, è un fanny dinner. La locazione... Fancy dinner, ma con stoners. Con stoners. Ma la locazione è una locazione ricca? È un paese per grandi eventi. Ok. Quindi, andiamo a eat normal food? Sì. Ok. Gourmet, normal food. Sì. 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 Il food è out, ma puoi provare. Ma pensi che posso fare una vita diretta dal posto? Sì. 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 Ragazzi, siamo al dinner con Freddy. Super private. Ciao. 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 vi faccio vedere il menù bellissimo allora tagliatelle, pesto, pasta, poi fresh pasta with fresh form vabbè tagliatelle al pesto lo sappiamo second course, sliders around the world, 3 mini burger, fili felafel mini burger, beef burger and cheese e cauli flour mini burger, poi terzo paella spagnola e dessert patisserie honey banana rosin selection the fine wines and beer and soda included in the menu, let's go come se chiama? despues mi puoi insegnare la bottiglia se chiama mevalonix come se chiama? mevalonix mevalonix grazie freddy fai carino ecstasy mevalonix let's go freddy me lo fai bere slobicchino let's go yes yes here, hemp 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 sali yerba tantissimo hemp hemp, a lot, a lot hemp like sticks like sticks, you know yeah taste like sticks like these sticks of hemp like these chupa chups of hemp no, like sticks of weed no, but you ever try this chupa chupa green of hemp ffff fa di chupa chupa la marijuana ok ragazzi cambio di camera un piccolo cambio di microfonico ma ci siamo allora ci hanno portato il cibo la pasta che va mangiata mentre si fuma qualcosa no ma come possiamo prendere la pasta? no 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 thank you ah and you want the gresor so i'm italian i'm from the city of pesto and now i'm gonna say if it's a good pesto or not let's go i'm from Genova so i can say that yes ragazzi cuiviamo la pasta al pesto di scuola è davvero buon petto freddy mi mette le luci addosso cioè basta grazie qua un problema iniziano a mettermi no ma questo è no era lo unico che mi faltava un dub ho portato il frostino questo è il dub che ci dobbiamo fumare grazie ragazzi guarda, ora mettiamo in questo e poi facciamo un start cold start e fiammiamo in un start cold start cold start gang cold start gang cold start gang ma grava 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 gravato grava beh, devo dire che l'accoppiamento con questo stratto l'hanno proprio azzeccato ragazzi è arrivato il primo dei tre mini burger la pasta pescola è molto buona devo essere sincero molto buona questo mini burger di palafere molto buona e c'è anche l'estratto abbinato adesso vediamo e questi sono invece i mini burger di carne questi sono proprio buoni ragazzi, questi spaccano, scusate infatti ho mangiato un po' ora prima di annunciarlo ok ragazzi è arrivato il terzo e ultimo mini burger cauli, flour, mini burger, crismi, cauli, flour, sticks with provolone, cheese let's go he's sweating i peperoni dentro, questo è tanta roba appartemente ci hanno anche dato le bustine della cannabis cup sono venuto alla cena e me ne sono portate un pochino dietro ne ho già fumata una che non mi era piaciuta molto e ora c'è la busta numero 11 la fumiamo, vediamo di cosa sta voilà grazie di una spezia che non mi ricordo cos'è ma buona porca miseria wow quarto di sera e ci hanno appena servito paella ogni banana ogni banana Oni banana, oni banana Fredy ha detto che il dolce è interessante Quindi con l'estratto di oni banana c'è un dolce di banana e miele cioccolato Vediamo Stanno succedendo cose incredibili Mi stavo 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 Siamo Mi stavo 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 Mi stavo